Ma cos'ho? Raga è un po' di pelino Oh ma che è? Pfff, ma che passa è baggata Pfff, ma che passa è baggata Pfff, ma che passa è baggata Giga Oh dinosa- Pfff Ma che cazzo Un secondo mi sono affacciato Un secondo Mi sono affacciato Pfff 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 Il giocatore dicesse Abbiamo apporto che abbiamo imparato una cosa Abbiamo imparato una cosa Non dare niente per sponzato Ogni porta lo dobbiamo fare insieme una per una Pfff Grazie a tutti